Ciao, sono Cristian Despierte, vice coordinatore della commissione ingegneri gestionali, che è composta da 15 ingegneri da poco iscritti e la commissione da poco formata. Ci occupiamo innanzitutto di definire la figura dell'ingegnere gestionale e di promuovere la formazione tramite un questionario, inizialmente, che verrà fatto per acquisire tutte le varie indicazioni, i vari pareri che vengono dalle varie persone iscritte all'ordine e successivamente, insieme anche ad altre commissioni, porteremo avanti i temi tipici dell'ingegnere gestionale.